Loro sono le candidate di Miss Altamura 2010, come sei? Felice? Sì, sono felicissima Adama, e perché sei così felice? È perché parteciam a Miss Altamura Si dice Altamura o Yaldamur? Altamura In dialetto come si dice? Yaldamur Infatti una pirouette, vedo bene, anzi vedo benissimo diciamo Quindi tu sei candidata a Miss Altamura? No No, solo Miss Intimo Miss Intimo E che fai qua? Niente Niente di meno, io sono in presenza di Miss Altamura 2008 Buongiorno, buonasera, non sappiamo Madonna, buongiorno, buonasera, buonanotte Katrin E che sia una buonanotte per tutti i telespettatori di Como Che fra un po' andranno a dormire E andranno a dormire con negli occhi la tua immagine Scusami, dai la manina Dammi la manina Fai la pirouette E tu chi sei? Chi sei tu? Letizia Colonna E sei Miss Altamura? Sì No Eh? No, ha partecipato l'anno scorso al concorso Miss Altamura Anche come è andata a finire? Anche è arrivata a quarta Anche è arrivata a quarta Se ci fossimo stati noi sareste arrivata prima Ma tu questo che ti serve? Come noi abbiamo un amico che si mette questo Marcucci Che cosa serve questo? È una sciarpa È una sciarpa Per farla di più E come sono gli altamurani? Sono... Lo devo dire? Sì, dillo Forti Sono forti Poi sono... Duri Duri Sono tenebrosi Sono... Si lamentano sempre Non si saziano mai Quando mangiano Ah, quando mangiano E quando fanno l'amore? E va bene Questo non lo so Devi chiedere... Facciamo il corso di educazione sessuale Allora, senti, Rossella Ma la me la dirà No, ma scherzo, scherzo Vado, e tu sei sempre quel di prima? Sì, sì Sempre lei, ho già fatto Tu sei? Ho cambiato l'intimo Vado, e questo scoppia tutto Come mai? Sono mie! Sono tue, madonna Che non le devo stoccare? Viva le tette grosse Ma che bello far l'amore Sulle tue montagne russe Ma tu, eventualmente qua Ti puoi anche poggiare Perché vedo Che è come un balcone E un balcone Possiamo mettere i fiori Per esempio Possiamo mettere il prezzemolo Tutto Ma to, che meraviglia È vero che gli uomini ragionano con il pisello E le donne con il cervello? Sì Mi sono rimessa in gioco Dopo la gravidanza Perché è una cosa che a me piace fare Sfilare, fare foto Tuo marito che dice? È d'accordissimo È felice Dove è tuo marito oggi? Sopra Sta ragnando Facciamo un augurio a Mirjana Miss Yaldamur Di Miss Y... No, Yaldamur Yaldamur Yaldamur, grazie Grazie a tutti